Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua e come promesso oggi video tutorial per la realizzazione del bracciale chiamato da me Crystal Pearl. Come vi dicevo nello scorso video, non è un braccialetto che ho inventato io, ma è un braccialetto che ho trovato lo schema in un sito, adesso non ricordo né dove, né come, né quando. Dai, iniziamo, vi farò vedere come realizzare un motivo, ovviamente imparando a fare un motivo sapete fare poi tutto il bracciale, voi lo realizzerete a seconda della misura del vostro polso. L'occorrente per un motivo è il seguente, faccio una piccola premessa, non ho in casa tutto il materiale per cui mi sono dovuta arrangiare. Allora, 4 perle da 8 mm, quella che manca, anzi tutto quello che manca è servito per la realizzazione del primo passaggio, che tra poco vi farò vedere. Poi, 4 svaroschi da 6 mm, 8 svaroschi da 4 mm, una perla da 10 mm, io non avendoli in casa ho utilizzato un mezzo cristallo da 10 mm, 4 perle da 4 mm, conteria e 2 svaroschi da 5 mm. Questo non è uno svaroschi da 5 mm, ma non avendoli in casa ho deciso di utilizzarne uno da 4 mm, un colore un po' più scuro di quello che dovete utilizzare. E voi, mi raccomando, ogni volta che vedete questo colore scuro, quindi per due volte, dovete pensare che sia uno svaroschi da 5 mm e utilizzare uno svaroschi da 5 mm. Partiamo. Primo passaggio, filo di nylon da 0,25-0,30 al massimo e si realizza così, perla da 8 mm, nel fio di destra e nel fio di sinistra inserire conteria, bicono da 4 e si incrocia nello svaroschi da 5 mm, così. Secondo passaggio, inserire sia nel fio di destra che nel fio di sinistra, conteria, perla da 4 mm, conteria e questa volta però si incrocia nella perla da 10 mm. Altro passaggio, stessa cosa di prima, conteria, perla da 4, conteria sia sul filo di destra che sul filo di sinistra, questa volta però si incrocia con lo svaroschi da 5 mm. Ecco qua. A questo punto dobbiamo realizzare la prima sequenza, cioè filo di destra, filo di sinistra, svaroschi da 4, conteria, si incrocia nella perla da 8 mm. A questo punto continuiamo a lavorare un filo, ovviamente la stessa cosa verrà fatta anche sul filo di sinistra. Allora, iniziamo a inserire conteria, svaroschi da 6, conteria, perla da 8, conteria e svaroschi. Ecco, dopo aver inserito lo svaroschi da 4, attenzione a questo passaggio. Il filo di nylon deve essere inserito dentro le due conterie che escono dal giro di base, chiamiamolo così, cioè dalle conterie accanto alla perla da 10 mm. Così. Allora, scusate, spero che si veda bene, ma tra la luce e la sera, il buio della sera, 1 e 2. Ecco, adesso, prima di rientrare nella perla, bisogna inserire uno svaroschi da 4, una conteria e poi si rimette il filo dentro la perla, ma attenzione a non entrare nelle conterie accanto alla perla da 8 mm. Ecco, a questo punto, dopo aver fatto questo passaggio, inserite conteria, svaroschi da 6, conteria e si incrocia nella perla da 8 mm di base. Dopo aver fatto questo, mi raccomando, fate esattamente la stessa cosa nel filo di sinistra e incrociate nella perla da 8 mm di base. Dopo aver realizzato la stessa cosa anche nel filo opposto, a questo punto, basta tirare benissimo i fili. E ecco qua, un motivo è stato realizzato. Io consiglio di riprendere i fili e farli passare nella parte sotto, cioè nella parte di base, questa qua, e uscire nell'altra perla e ritirare un'altra volta e poi continuare a fare i motivi successivi. Ecco, io spero di esservi stata utile e scusatemi se magari io mi sono un po' inceppata o ho sbagliato qualcosa, ma è il mio primo video tutorial. Mi raccomando, voglio vedere i vostri lavori e a prestissimo. Ciao!